pronti eccoci ben trovati vediamo aspetta che mi fermo perché sennò il cameraman mi spara ha ragione peraltro ciao buon benvenuti ben trovati a tutti a voi che siete online a voi offline stessa cosa oggi abbiamo un pomeriggio di quelli interessanti a parte il parterre d'urwa che abbiamo alle spalle e che poi vi presento all'inizio del della tavola rotonda tra istituzioni accademia aziende l'idea di oggi parlare di fagi che detto così è stranissimo poi lui mi picchierà molto io sbaglierò tutta una serie di cose e lui mi picchierà regis non mi picchia solo perché non capisce così bene l'italiano se non mi picchierebbe anche lui o dio poi anche giuseppe mi picchierebbe per altre ragioni ma quello è un altro discorso dicevo parlare di futuri significa affrontare un tema che alcune industrie hanno già iniziato a sfruttare quello del foresight cercando di capire assieme oggi come queste stesse metodologie possono diventare utili se non indispensabili secondo dal vostro punto di vista all'interno del mondo della privacy data protection per farlo abbiamo preso vi dicevo un parterre d'urwa abbiamo addirittura l'ospite internazionale ma non tanto perché ci piaceva l'ospite internazionale ma perché regis chantelier e il cnil hanno già applicato il foresight da tempi non sospetti all'interno del dell'istituto e quindi dell'autorità e quindi volevamo farci contare un po da regis cosa è significato quali erano le sfide e soprattutto quali sono stati gli outcome che sono riusciti ad ottenere per introdurre la giornata passo un attimo il microfono ad anna poi lo riprendo e vi lascio il prima possibile con il keynote speaker grazie matteo veramente tre minuti anch'io ringrazio i nostri relatori che rappresentano il mondo accademico istituzionale del mercato sono tutte persone che poi saranno presentate e comprenderete anche il livello lo spessore dei contenuti che potranno trasferire perché siamo qui noi abbiamo iniziato il percorso che ci ha portato ad individuare questo contenuto il foresight che diciamo oggi saprete che cos'è e noi abbiamo iniziato un anno fa per fortuna con un gruppo di persone che ovviamente oggi sono dei miei dei colleghi fantastici che ho imparato a conoscere e che con me hanno iniziato questo percorso ovviamente saluto ringrazio giuseppe vaciago e matteo che hanno diciamo messo le basi per questo viaggio sul quale poi sono entrati gabriele rizzo il professor rizzo che tra un po sentirete e stefano leucci alessandro ortalda i ragazzi che ovviamente ci aiutano tutti i giorni umberto giannetti michele perlizzi e francesca pesce io ringrazio tutti e perché siamo qui per questo metodo perché noi volevamo essere un po distintivi volevamo comprendere come in questo mondo di cambiamenti era possibile avere un approccio non reattivo ma come abbiamo anche scritto reattiva proattivo cioè cercare di intercettare quelli che sono i temi del futuro dei futuri vedrete nessuno di più e su questo diciamo altre altre entità istituzioni importanti hanno già iniziato ad adottare questa metodologia una fra tutte l'european data protection supervisor che ha lanciato il programma tech sonar e che ha sostanzialmente individuato attraverso questa metodologia come intercettare i trend tecnologici per poter adeguare le normative che eh oggi tra l'altro in un altro bellissimo panel è emerso essere fondamentale pensate se all'artificial intelligence generativa eh che si tratta di dati e che quindi diciamo fa web scrapping esattamente quello che oggi invece viene indicato come il male di tutti i e quindi se avessimo eh saputo un po' prima ecco questo è un tema eh importante poi abbiamo l'ENISA che nel 2022 ha organizzato la prima edizione del Thread Hunt 2030 che è sostanzialmente la prima conferenza sulla cyber security questo è un metodo che viene usato molto anche in termini di difesa dai governi eh poi ce lo dirà Gabriele Rizzo eh e quindi eh cosa vogliamo fare? Vogliamo trasferirvi lo stesso entusiasmo che abbiamo avuto noi e che eh continua ad esserci sperando che siate sempre di più a seguirci perché è veramente qualcosa di importante per i nostri futuri vedete che adesso parlo al plurale abbiamo circa un'ora per questa bellissima dialettica e thank you Regis again for accepting our invitation e passo la parola al. Quindi un sacco di cose da vedere partendo dall'inizio ci siamo detti eh se vogliamo parlare di foresight abbiamo bisogno prima di tutto di mettere un fattore comune abbiamo abbiamo due ospiti oggi che metteranno un po' a fattore comune eh una base solida per capire che cosa sta succedendo abbiamo eh Gabriele professor Rizzo un amico ormai è diventato un amico il tempo da la prima volta che ci siamo incontrati che hai dovuto spiegarci che cos'era il foresight è stato divertente è una delle volte in cui credo eh sia stato più complesso per lui tenere a bada le persone che facevano domande mentre invece farei però iniziare con il keynote speech eh Regis Regis Chantelier è Innovation foresight PM del CNIL aspettate che lo leggo perché così almeno non dico troppe cavolate perché è membro del link che è il laboratorio di innovazione e previsione all'interno dell'ACNIL come dovremmo dire eh che è un progetto triplice che vede un lato con un media online uno spazio fisico e una piattaforma eh di ricerca e di sperimentazione a lui abbiamo chiesto due cose nessuna delle due particolarmente semplice la prima è di spiegarci in parole semplici come come può vedere come può essere il foresight eh e il secondo come lo hanno applicato già direttamente all'interno dell'ACNIL in un eh in un contesto di privacy e di data protection quindi lascio a lui la parola l'intervento sarà in inglese se avete problemi con l'inglese di qualcuno prendete il vostro vicino di banco e fatevi tradurre va bene grazie mille intanto di aver accettato Regis e a te il palco grazie e sorry i non parlo italiano i magari non parlo in inglese ok ciao ok so i am mariotta il innovazione for sight project manager a CNIL e in dal link innovation laboratory di cui è il departmento at the CNIL in the direction of Technology and Innovation and this is our main goal are to explore, to experiment and to discuss and today I'm going to explain you more the exploration part but you have to understand that we try to experiment, we work with engineers and every time we have some new technologies some new devices we try to use them a lot so that we can understand it and with engineers and to discuss, meaning that we try to have a lot of contacts with all the ecosystems of innovation university, companies startups, etc. and today with you and we try to not to be just in the CNIL but also outside of the CNIL and the link is composed of six people sometimes a bit more and we are three working in humanities and foresight we have two engineers and one designer or two, sometimes two because one of the main success we had at the link was to introduce the designer CNIL it was part of foresight at the beginning we started in 2015 and now we have published a lot on this topic and we have recruited two designers and they wrote a lot with the lawyers and with engineers and it's part of the success we had on the process so the idea today was to talk about foresight and why foresight just to know a bit about what is foresight and this is really well known something you can find on foresight online which are the future cons because you just have to understand what is foresight foresight is to come from the present but understanding what is the past and to try to figure out what could be the possible futures plausible futures desirable futures and sometimes preferable meaning that you go from the analysis of the past of the present trying to work on big trends on weak signals just to figure out many different ways that the future could be with one technology one use of the technologies and main idea that you don't try to predict the future strategy foresight does not attempt to offer definitive answers about what the future we hold and this is from the OECD there are no hard facts about the future so one more time we don't try to predict the future we don't know how the future will be and the objective is not to get the future right but just to get prepared to it and that's why it's important to work with foresight even more in data protection I think because and I tell you just after but what do we use to do this we have decided for years now to use design fiction because when you talk about foresight in general it's like foresight scenarios you can have different view on what could be the future and design fiction is a bit different it's not only scenarios these are artifacts it can be it can be a fake a fake press article it can be sometimes a fake ad this is a fake ad we published four years ago it can be many different things it can be an object it can be some apps and the idea is to create something which is not real the idea is not to make something real but just to have an artifact an object on which you can start to discuss with the people and this is the main idea the main idea that when you talk about privacy you're something somewhere between the fiction the reality and most of the time the fiction is part of our inspirations because if you have a look to the science fiction but not only the science fiction you can find some fragments of future that could be interesting to analyze because somewhere someone is trying to create the startups which is based on this fragment in the future that's why it's interesting to make the people think out of their own box not starting from their present but from something different which is this one you don't know if you remember the Tamagotchi in the 90s this one is the Tamagotchi which takes care of you it's not you not you taking care of Tamagotchi with an AI it could be useful today with a genital AI and what is Borsight Acnil and this is from the Borghese Gentiluomo bourgeois gentilhomme and in this this piece of Moliere Monsieur Jordan tell for more than 40 years I have been speaking prose while knowing nothing of it and Borsight in data protection I think the same because doing foresight in data protection is part of the job for anyone here but maybe you don't know it because if you want to analyze the risk it's all about the future and sometimes I explain to people if you give one piece of personal data to someone at Acnil you'll have the ability to imagine all the possible use in the future with its only piece of personal data and they don't do foresight but they have the ability to think out of the present and what could be the future so the risk assessment in data protection could be compared in some ways to a foresight to the foresight and what we try to do like NIL is to work on the present and so we try to publish some analytic and foresight report to provide some foresight scenarios some design fiction in the future and every time we try to provide and to give some recommendations to the CNIL to the DPA but to the government to the legislator and the stakeholders so it's not only foresight for the CNIL but for the data protection itself and for the people and what we do is first we start with a lot of monitoring of technologies we publish some smaller articles analyzing the present what you can find in the new technologies we have some articles on JNTVI on many different on metaverse on many different things it's not the biggest part of the work and at the same time we work on IP reports and each report tried to tackle a specific topic and to provide I told you some recommendations using design fiction the last one was on the effect of the data in the environment and the intersection between data protection and protection of the environment we published it in July and it's available in English if you want to read it in English and we had the opportunity to work on quantified self on design on smart city on civic tech and even of the act of sharing data in the digital world and at the same time as I told you we provide some design fiction and what you can see on the left is a design fiction which is called Mayan Reloaded it's a civic bot in the city which can produce public policy based on sensors which are all over the city on the main idea we had not now but some years ago that the data can be bad raw data is always good so the public policy made by raw data should be good but in this example it's not so good if you want to read it it's a bit more complicated when you face humans and this one was a fake magazine in which we have a fake interview and there was the ad I showed you before and it's all the process so you have many examples but the main idea is you have to understand that doing this is not just for fun and it's useful for the knill because lawyers can read it can use it in their daily work and it's useful for all the stakeholders on the topic we try to tackle so we don't want to make something fun we try to produce something high level so that the secular can hear us and when we try to provide some recommendations they can accept the recommendation because we understood what is the topic this is the most important thing I think when we do foresight you can make some really nice objects in design fiction but you have to be strong on your feet to produce it and I give you just some examples to give you some the last examples we had on design fiction and we worked on metaverse I had the opportunity to write two articles and we produced two design fiction this year on metaverse the first one was in the future where many jobs are done using VR headset and the knill has to adapt and must find ways to control these virtual rules and we published the 1st of April an offer a job offer for a metaverse investigator and you have all the offer it's part of the knill control department it was the real text we can find in a job offer and what was interesting was that we had this this process that the knill does work with meta and we do we have some some headsets and we use them but it was like we 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 don't use the the eye tracking earth rate et cetera and we we deactivate all the the more sensitive data and we can give the we can show that maybe we can work with them but without the data it was interesting that the knill had listed on its own linkedin the real knill and maybe many people didn't know if it were true or false and it was really in months before people told me oh did you find your metaverse controller and what was interesting something which is plausible but it could be tomorrow because we have the ability to control online these days and tomorrow if you want to control with an headset it's possible we just have to change the screen for a headset so that's well that's it that's what the idea was at the same time to show that the knill is not some people in some office knowing nothing about about the digital universes and we know it we use it and we can control in the future the other one was in a world in which augmented reality devices are used a lot by many people and you have two different kinds of devices some are low-cost and you have to accept target advertising to have access to the low-cost device some others are a bit premium and you have access like your whole macbook where you didn't have any problem with spam and with virus it was more easy idea and some people some hackers have created the higher block it can make you see a different world in the higher block in the future when we are going to use this headset can be useful just not to have all this load of information so that you can you can see the real world but at the same time it's used as a proxy because these headsets can receive data but they can emit data and this this hardwares can be useful in the future and for sure in the future we talked about it yesterday at night maybe the augmented reality is the next big thing much more than the VR and we have to get prepared on the world in which all the digital life is around ourselves in the real life and we have to know that we have to find some ways to let the people live in a world with less load of information and the last one is about data and the environment this one was tricky because I had the challenge to work on why should we work on environment when we are a DPA and I tried to find what are the intersections what could be done and if you read the paper we see that there are many principles of the GDPR that can be useful like the minimization like the fact that you don't have to keep the data as long as you want etc you have many different things which are interesting at the same time we want to have more cryptography we want to have more data accessible so it's not really nice in terms of the footprint of the systems but at the same time we had created before something which was a world in which our lives are perpetrated by data quotas but maybe in the future we have the ability to know what are the data we use and to have some quotas but the quotas can be done without control and without devices and in this fiction which is called control visit only in friend this one in climatopie.fr which is a dedicated website in this one you have this energy quotas and sometimes you can receive a visit from the ecological police who can go at your door to knock on the door and to ask you what did you do last night why your consumption of last night was so and you have to explain us and in this one if you go to the end it's like an American movie with an APN but it means that we have to know that in the future and this part of this report we have all the technologies there we have been now we all use on the Google Maps and we have all like we know how to accept to go in the city with our phone we have many projects in France to process data for example we have a project by the tax which can crawl the social media to know using AI to know if your life online is the same as your life offline or URL and if they find a difference maybe they would go to you to control if you have paid your taxes it's in my opinion it's a bit crazy but it's an experimentation meaning that in the future we have to think about our liberties because we have to all change the way we live we have all the ways to control every single digital footprint but we have to do this with the people not against the people we had some example that it's not so easy to work on these subtopics and the main idea in terms of freedoms is that we have to use transparency and to work with the citizens to create some new systems accepted by all people knowing that we have accepted to give some liberties for example when you go on the road you can't go on full speed you have to use your I don't remember the name century security and even in terms of health we had to deal with our liberties when the COVID but in the future we have to do this for a long time so that's why it's interesting that the CNIL we know that we are going to have some low project going to the CNIL and we have to get prepared on what is experimentation means that you have to assess the experimentation to know if it's a good explanation or no and we had the case with facial recognition and sometimes experimentation is just the first step of the market and they don't want to turn to switch of the system after the experimentation so that's why in development and in other fields we have to get prepared to it these are examples and if you on using speculative design in data protection so you have the link and you can go and know more about all the way we can use it in different dpa thank you ok nella migliore delle ipotesi avete un sacco di domande faremo ci sarà spazio per le risposte subito dopo ma alcune di queste saranno poi chiarificate chiederò di chiarificarle un po' di più magari delle vostre domande a gabriele facciamo che vi presento un po' visto che c'è tutta il parterre du rack di vicevo vi presento un po' chi c'è allora credo che dottor acciai lo conosce che chiunque di voi ha avuto a che fare con la privacy dovrebbe conoscerlo abbastanza bene riccardo acciai direttore di departimento di reti telegramatiche marketing del garante abbiamo Ada Fiaschi responsabile privacy and data protection di itairways quindi ancora una volta dpo non dpo sono seduti ancora a fianco fa un po' impressione averlo a fianco vero sembra sembra cattivo voi lo vedete in piedi tra l'altro è un uomo da seduto sembra più paccioso di come è poi da in piedi andiamo avanti passiamo di nuovo al business perché abbiamo Guido Sandoval che è Ciso DPO di Bulgari Anna Paola ha mandato la parte in gamba del team mettiamola così dovevamo avere con noi tra l'altro la salutiamo Anna Paola Lenzi per team se ne abbiamo Giulia Labate che è senior privacy expert buonasera ok pensavo di aver sbagliato qualcosa e Giancarlo Malgeri che è co-director del Brussels privacy app e tra l'altro professore alla Leiden si giusto corretto perfetto meno male e in fondo da cui però poi partirò abbiamo il professor Gabriele Rizzo che è consigliere internazionale e foresight executive che fa tanta impressione come nome foresight executive partirei nel primo giro proprio da te e partirei chiedendoti in realtà un po' anche per chi magari non ha avuto la dimestichezza non ha tutta questa dimestichezza con l'inglese non penso qui da voi penso a chi è online principalmente se puoi ricapitare un secondo due definizioni di foresight e poi un attimino capire come il foresight funziona per quanto riguarda un po' la pianificazione mettiamola così mi siedo a Franco te poi così almeno se no il nostro telecamere si agrabbia tantissimo con me ciao Matteo e ciao a tutti quanti che sono in presenza e anche quelli che ci seguono online il tema del foresight si riconnetta a una delle slide che abbiamo visto da da regis cioè avete visto la slide con il cono dei futuri che è praticamente il gold standard per quello che riguarda l'ambito del pensiero dei futuri quello esprime il concetto cardine del foresight e cioè noi subitamente pensiamo al futuro cioè quando noi pensiamo all'avvenire l'avvenire esiste in una sola versione e c'è una linea che connette il presente verso un momento che è più in là rispetto all'adesso questo modo di pensare al tempo che è dopo rispetto allora a quello che sarà è un modo limitante perché il desiderio di conoscere un solo futuro fa sì che noi non pensiamo a tutto il resto delle traiettorie che possono esistere e in realtà il futuro non può essere conosciuto perché il futuro non esiste nel presente quindi ci deve essere un modo per lavorare con il futuro questo modo per lavorare con il futuro è il foresight cioè quella disciplina che esplora attraverso tutte quante le possibili possibili spazio del del cono dei futuri e cioè il modo in cui dal presente in realtà non esiste soltanto una linea ma lo spazio si apre in un volume di tanti futuri alcuni di questi futuri sono possibili cioè sono permessi dalle leggi della natura e poco di più alcuni sono plausibili cioè sono più desiderabili sotto un certo punto di vista alcuni futuri sono i futuri probabili anche se probabili è una paraccia in foresight noi non parliamo di futuri probabili nel senso che sono che avverranno più di frequento o con una maggiore evidenza rispetto agli altri ma sono quelli che noi immaginiamo come quelli più facili quelli che sono quelli che ci aspettiamo sono la traiettoria verso il futuro dal presente la nostra versione 2040 del 2020 e poi ci sono i futuri preferibili cioè quelli dove veramente ne vogliamo andarci a direzionare ma in un in un attimo nell'ultima frase il tema è proprio che ci sono tanti futuri e l'obiettivo del foresight non è conoscerli ma è usarli per integrare il futuro nel decision making presente detto così ho capito anch'io quindi era spiegato molto bene grazie io partirei in realtà adesso vediamo da chi partiamo partiamo da Riccardo Riccardo ti uso per un tema che sta diventando tra l'altro in queste ore in questi giorni con meta a pagamento sta diventando uno dei futuri che vediamo come possibile o come forse probabili per quanto riguarda la privacy la monetizzazione dei dati sembra sempre più ormai quasi certo sembra perché si stanno muovendo tutte le varie piattaforme che il futuro dei dati sia la valorizzazione la monetizzazione di questi è davvero così? grazie e buonasera a tutti diciamo che mi avete messo un po' addosso quell'ansia che avevo a scuola come primo col cognome che ho capitavo sempre per primo ecco e io oggi vorrei dire perché non facciamo il giro al contrario mi lasciate per ultimo però va bene non è stato fatto per ordine alfabetico non mi trovo a aprire le danze con un temino questo della monetizzazione insomma di cui oramai si parla a sprombattuto io partirei senza diciamo esagerare col tempo però da un breve flash for light qualcosina ho studiato c'è un tema che da alcuni viene toccato in altri in altri casi no che poi io sto a Piazza Venezia quindi sono ogni volta che scendo diciamo fori imperiali pieno di storie eccetera per cui un punto di partenza può anche essere quello storico per cercare di immaginare dei futuri il nostro Gian Battista Vico parlava dei corsi e dei ricorsi ma a parte la citazione diciamo da seconda liceo quello che era interessante è che diceva che questi corsi e ricorsi erano una spirale e che quelli successivi inglobavano il passato quindi non è una mera ripetizione di ciò che è stato ma è una amplificazione di ciò che è stato partendo da questa piccola cosa monetizzazione siamo in questa fase in cui tutti ne parlano e sembra essere appunto diventato il trend topic dell'ultimo periodo in prima battuta come ha chiamato Matteo si usa valorizzazione dei dati ad esempio ecco io partirei da lì cioè valorizzazione ma vuol dire dare un valore ai nostri dati ma questo valore per chi è? per l'interessato o per chi li utilizzerà? perché in genere con questa idea della valorizzazione dei dati noi pensiamo a dare un valore economico a quei dati che tanto utilizzeremo o non utilizzeremo e che oggi non sono in alcuna maniera remunerata barra retribuita due premesse quindi abbastanza scollegate fra loro per dire che in questo momento a me pare che ci sia una euforia da monetizzazione e valorizzazione dei dati che se proviamo a vedere qualche trend o andare oltre quello che ci appare nell'immediato forse può aprirci dei scenari diversi perché si sta cercando di subordinare al pagamento tramite dati tutta una serie di servizi che fino a ieri erano gratis quello che ci viene detto è quello che capiamo quello che percepiamo con una certa facilità è perché la pubblicità che paga queste cose qui deve essere sempre più mirata sempre più specifica e quindi attraverso una migliore catalogazione dei dati raggiungeremo questo obiettivo e questo è probabilmente l'aspetto primario però mi domando se poi in tutti i casi è così e cioè siamo sicuri che quei quotidiani giornali siti che fino a ieri non facevano pagare il servizio attraverso il semplice riferimento all'acquisizione di molti più dati da parte nostra il famoso consenso riusciranno a remunerare questo gap o forse c'è un problema che è diverso di cambiamento di modello di business e cioè che forse questi siti diciamo più istituzionali dei giornali magari sono seguiti sempre di meno e quindi che probabilmente anche se gli dessimo tutti quanti i consensi non riuscirebbero mai a colmare questo gap economico finanziario che produce che nasce con che cresce con questo tipo di società rivolta ai social al mondo di internet eccetera e quindi forse se uno vuole andare a vedere un po' il futuro deve sgombrare diciamo lo scenario dalle prime impressioni che ci vengono date quello che si sta facendo molto probabilmente come dimostra ha tirato ne ha parlato anche Matteo Flora in uno dei suoi recenti interventi alcune piattaforme stanno cambiando portando un cambiamento dal gratuito al remunerato e cioè si va a pagamento semplicemente non ti chiedono non fanno una questione di scambio informazioni con dati semplicemente ti dicono questo servizio oggi costa e la cartina di torna sole del fatto che qualcosa anzi è cambiato e sta cercando di affermarsi ma è la cosa più difficile perché se tu hai abituato le persone ad avere un servizio gratuito da domani dirgli che costa è un pochino complicato e allora attraverso il negozio dei dati delle informazioni eccetera forse si avvicina piano piano il pubblico a questa idea di cambio di paradigma e allora ancora una volta la valorizzazione dei miei dati o sto valorizzando il percorso che qualcun altro sta facendo per remunerare giustamente il proprio business che oggi è minoritario quali dati poi sono interessanti se ci pensiamo sì è vero la pubblicità sempre più mirata però ecco mi faccio una domanda sciocca se io vendo palline da golf è più conveniente per me avere centomila consensi di persone che guardano forse la televisione i programmi di golf o forse fare un accordo con i vari centri golfistici e mandare la pubblicità mirata ai loro clienti magari attraverso anche il centro golfistico così non devo neanche avere consensi particolari eccetera voglio dire che sotto queste cose che ci vengono dette forse ci sono delle lavorazioni ancora che devono essere portate a complimento il rischio però qual è? che accanto a qualche informazione rispetto al mio amore per il golf poi vengano fuori invece delle informazioni che quelle sicuramente stanno a cuore a qualcuno c'è un esempio un po' banale e vado alla conclusione c'è un esempio un po' banale che spesso mi trovo a fare il mio codice fiscale che tipo di valore potrà avere pochi centesimi però questo codice fiscale se utilizzato ad esempio come punto di riferimento per fare un contratto assicurativo della mia automobile ha una differenza di qualche centinaia di euro perché se io risiedo ad Aosta pago l'assicurazione per il furto dell'auto molto di meno che se figuro essere residente napoletano salernitano eccetera che cosa succederebbe se questo dato del mio codice postale fosse utilizzato ai fini di assicurazione sanitaria probabilmente se è legato a certe zone dove c'è un'alta incidenza dei tumori probabilmente mi farebbero pagare un premio molto più alto per l'assicurazione e fino a qua ho parlato soltanto di denaro di soldi quindi di valorizzazione che non è per me è per qualcun altro perché queste sono le informazioni che stanno a cuore e guardando qualche trend vediamo il nostro welfare cui siamo tanto abituati quasi da non considerarlo più che mostra diciamo affaticamenti nel corso degli anni possiamo vedere altri paesi dove il welfare non c'è e studiare quanto sono importanti determinanti le assicurazioni in questi paesi e forse come scenario futuro possiamo provare a immaginare che cosa succederebbe se attraverso lo studio del mio codice postale ma meglio ancora dei miei dati sulla salute o dei miei dati genetici domani dovessi andare necessariamente perché è l'unica possibilità che ho a fare un contratto assicurativo per tutelare la mia salute io ci starei molto attento a questa deriva sulla monetizzazione barra valorizzazione dei dati sì sono d'accordo la cosa che a me aveva un po' stupito è che finalmente iniziamo ad avere un metro con i social network che diventano o gratuiti dando dati o a pagamento iniziamo ad avere un minimo di valorizzazione abbiamo capito che da un social network all'altro quei dati per quell'azienda valgono 150 euro mal contati che è un punto interessante se esplori e lo fai il web negli ultimi 10 anni da qualche parte ci sono sondaggi analisi eccetera ogni tanto troviamo l'articolo del giornale online che dice i tuoi dati valgono 88 dollari eccetera e cioè questo giochino è sempre stato fatto il problema è che se io oggi scopro che certi miei dati hanno un valore messi in quel circuito che dicevo prima e soprattutto analizzati da chi ha un altro interesse rispetto al mio che è quello di avere o non avere la pubblicità o usare o non usare il social ha un valore che in qualche caso se veramente questo paradigma un po' futurista ma non come dire non eccessivo probabilmente fosse realtà a volte potrebbe avere anche la differenza fra la vita e la morte perché se qualcuno non ti assicura e quello è il tuo unico modo per poterti curare beh insomma magari io sarò contento di aver messo in tasca i miei 10 euro però poi domani ho un problema sicuramente molto più grande allora un po' che salto destra e sinistra allora così a meno visto che mi dite vado lui sa già l'ho avvisato vedete che è arrivato il sorrisino lo sai che arriva la domanda allora Gianclaudio Malgeri una delle cose che mi sono detto quando all'inizio parlavamo di futuri è che la previsione dei futuri è estremamente interessante quando devo andare a vedere un'analisi di rischi o quando devo scrivere anche molto più terra terra devo scrivere una DPA ma aiuta o non aiuta perché a questo punto devi guardarti ancora più intorno cosa ne pensi? ti rubo questo passo questo qua grazie mille grazie per l'invito insomma è per me molto molto interessante questa navigare in aree così interdisciplinari e quindi diciamo appunto il riferimento sull'impatto sull'analisi dell'impatto è uno delle tante possibili applicazioni pratiche penso del foresight mi è piaciuto molto il riferimento che ha fatto Regis al fatto che la data protection già diciamo fa qualcosa senza sapere che cosa sia senza sapere che è foresight e di fatto l'analisi dell'impatto l'analisi degli impatti è qualcosa che esiste già a livello di previsione sicur non con le metodologie del foresight o non sempre ma che ma è già lì diciamo che parliamo di analisi degli impatti al plurale perché non abbiamo più solo quella dell'articolo 35 del GDPR ma abbiamo l'articolo 34 delle DSA abbiamo il Fundamental Rights Impact Assessment proposto nell'EI Act e diciamo in Accademia abbiamo provato a spingere molto il trilogo su questa norma abbiamo portato avanti una lettera co-firmata da 150 accademici per andare avanti col Fundamental Rights Impact Assessment perché a quanto pare il trilogo non ha molta volontà ad andare avanti nell'EI Act su Fundamental Rights Impact Assessment tutto ciò tutti questi diciamo impatti analisi di impatto sono i più grandi esercizi di foresight che già noi facciamo diciamo nella pratica ma anche soprattutto nella teoria è uno di quei temi perché solitamente c'è un po' un dualismo tra teoria e pratica ma questo è uno di quei temi secondo me che tiene tantissimo impegnati tanto la teoria tanto la pratica soprattutto perché già quando valutiamo i rischi dobbiamo fare tutta un'analisi di expected desired plausible possible eccetera e molto spesso il problema è che il contenuto del rischio ci è ignoto mi spiego meglio il rischio ha diritti fondamentali che cos'è cosa vuol dire come riusciamo a quantificare qualcosa che è intrinsecamente inquantificabile questo è il problema perché il diritto ci ha insegnato a quantificare beni immateriali quindi noi maggiormente chi viene dalla tradizione civilistica diciamo sappiamo che possiamo quantificare il danno alla salute e quindi i rischi alla salute in qualche modo li quantifichiamo perché perché c'è di mezzo la medicina che in qualche modo è una scienza misurabile cyber security è migliabile in quanto rischi perché perché viene dalla matematica viene dalle misure di sicurezza che sono numeriche e sono tradizionalmente una protezione della proprietà la proprietà è quantità ma come facciamo a quantificare e quindi poi a prevedere gli impatti su altri tipi di diritti fondamentali si rischia quello che in inglese si chiama infinite regression che potremmo dire un esercizio di matrioska in cui apriamo e troviamo una bambolina più piccola e poi vuota alla fine o di scatole cinesi possiamo sapere tutte le analogie che volete ma il problema è quello cioè che noi ci troviamo a dover quantificare i diritti fondamentali che è qualcosa di molto molto difficile e quindi di fronte a questo dilemma che è proprio secondo me un dilemma intellettuale e pratico mi è venuta in aiuto un paio di anni fa una la mia diciamo una delle mie mentori Mireille Hildebrandt che di fronte a questa sfida ha suggerito lei che ha sempre avuto uno sguardo da filosofa del diritto uno sguardo all'interdisciplinarietà l'applicazione di altre materie soprattutto dell'informatica e della matematica ha detto che gli informatici si sono già inventati il concetto di qualitative probability cioè di una prevedibilità che non è quantitativa ma qualitativa questo aprirebbe ora non abbiamo tempo per parlarne però questa contaminazione con un campo diverso è lo stesso esercizio che il foresight ci suggerisce e quindi per diciamo la mia applicazione la valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali dei soggetti è fondamentale perché io mi occupo dei soggetti vulnerabili quindi la vulnerabilità è un aumento del rischio sui diritti fondamentali quindi per me proprio per la mia ricerca è fondamentale capire quali sono questi impatti quindi con una collega di Utrecht abbiamo provato a sviluppare una serie di proxies quindi di approssimazioni che ci permettono di andare a capire prevedere come questi impatti possono essere qualitativamente prioritizzati e non è assolutamente diciamo è un esercizio un po' come dire coraggioso e fin troppo però diciamo che ci siamo basati su alcuni parametri che abbiamo preso anche dalla CNIL o da altri soggetti che hanno lavorato sul tema dei rischi AI impatto algoritmico eccetera quindi andiamo a vedere durata reversi durata degli effetti quantità di effetti di soggetti investiti dal rischio quindi da quel possibile evento reversibilità perché questo c'era già nell'analisi del danno in Italia o in Europa reversibilità di un certo effetto cioè in quanto tempo quell'effetto ritorna si annulla tutti questi potevano essere dei parametri e quindi diciamo che per me il viaggio sul foresight inizia adesso nel senso che la metodologia poi la dobbiamo ancora applicare quindi diciamo sto più a imparare ad ascoltare da Gabriele e dagli altri e dall'ACNIL però diciamo che posso dire in generale penso che da quello che abbiamo visto e concludo collegandomi anche all'intervento precedente che Mark Zuckerberg ha pessime capacità di foresight anche collegandoci al metaverso e che quindi questi impact assessments sono chiaramente e non solo quello ma in generale la capacità di prevedere i futuri della privacy i futuri giuridici è qualcosa su cui anche i più grandi e più potenti si lanciano senza grandi cioè senza proprio nessuna prudenza intellettuale diciamo così per ora mi taccio io rubo il microfono a Matteo ma ho chiesto il permesso bacchettami dai cosa ho detto di sbagliato stavolta previsione previsione ce l'avevo scritto nella domanda avevo mandate le domande perché almeno cioè fammi fare delle brutte figure quando sbaglio almeno qualcosa non è previsione è anticipazione allora questo è un problema è un problema solo italiano perché in italiano noi connettiamo previsione insieme con predizione insieme con pronosticazione quando parliamo di previsione per noi non sono la stessa parola no appunto grazie colma la nostra ignoranza quando noi parliamo di previsione noi facciamo questo questo lancio in avanti che va a finire in uno in un solo punto partendo da uno in un solo punto che è il presente invece il modo in cui diciamo usiamo previsione poi nel nell'ambito del campo che è essenzialmente in inglese è nel senso di anticipare cioè a vedere in anticipo allora quindi aprire quella traiettoria quella singola linea che invece è la predizione la pianificazione aprirla in questo volume del cono dei futuri il foresight come giustamente in maniera sacrosanta ha sottolineato il registo nel suo keynote di apertura il foresight non serve a predire il futuro non serve a decidere una via dove andare non serve a costruire una visione del futuro in anticipo serve a esplorare questo volume dell'avvenire e farne qualcosa nel presente vedere delle direzioni che senza questa analisi non saremmo stati in grado di vedere e quindi la capacità di farci domande nel presente usando la conoscenza dei futuri quindi Zuckerberg non era un pessimo è un pessimo futurologo ma non un pessimo un'altra delle cose che potete fare per far arrabbiare tantissimo gli esperti di foresight e chiamarli futurologi ma tantissimo ma tantissimo si arrabbiano tantissimo vero? ne sappiamo qualcosa dell'intervista vero Matteo? ne sappiamo qualcosa sì c'è un video di noi due dove ne parliamo di un'oretta è abbastanza divertente io lascerei un attimo in pausa autorità e accademia e mi sposterei sulla parte di invece industria di azienda perché tra l'altro voi lo sapevate in che ordine vi facevo le domande vi siete messi apposta per fare pang 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 cioè una partita di ping pong a farlo apposta non ci sareste riusciti solo per mettermi in difficoltà grazie Ada Fiaschi bello tutta la parte poi alla fine le cose bisogna metterle a terra davvero una delle cose che a me spaventano un po' di più degli utilizzi che sto vedendo ultimamente è per il caring perché perché prendi dei grossi modelli dei foundation model che possono parlare di tutto cioè possono farti una dotta cos'è che avevo fatto un po' di ah sì una dotta dissertazione sul perché la maionese è un condimento intrinsecamente razzista lo fanno giuro che lo fanno ed è divertentissimo è divertente gli dici che deve essere un esperto in cosa che è di critical theory and cooking e gli dici di dirti perché la maionese è un condimento razzista e ti fa un pamphlet quindi illimitati poteri cosmici in un minuscolo spazio vitale che in sistemi di caring come può essere banalizzo un chat bot possono diventare un problema non indifferente da quel punto di vista come si fa si parte con un po' di trasparenza si parte con i dati da dove si parte per strutturare processi di questo tipo microfono lì davanti no no per noi perché se no a casa non ti sentono ok certo innanzitutto grazie per la domanda volevo in primis rappresentare che è vero che come responsabile privacy di Ita Airways sono stata presentata in questo modo ma io parlo a titolo in questo caso a titolo personale questo ci tenevo che venisse rappresentato in realtà come appassionata della materia della data protection e e e non solo allora è chiaro che le chat bot soprattutto se sono chat bot di auto apprendimento possono dare a dei risultati assolutamente imprevisti tant'è che gli stessi programmatori spesso non sanno a che risultato può portare un certo algoritmo e ovviamente questo presenta delle criticità non indifferenti attualmente devo dire Ita Airways non utilizza questi sistemi però è chiaro smettetela di importunare la chat di Ita cercando di avere risposte di quel tipo non c'è dietro un LLM quindi attualmente noi abbiamo persone ci ho provato abbiamo persone fisiche che rispondono quindi se la risposta non convince è perché è la persona fisica che ha dato una risposta magari non corretta o impropria detto questo è chiaro che le chatbot di autoapprendimento presentano tutta una serie di rischi legati a possibili bias legati al dataset che potrebbe essere erroneo o comunque strutturato in modo non corretto e ovviamente questo può comportare tutta una serie di problemi per il quale sarebbe necessario ed opportuno che venissero date innanzitutto delle informative chiare così come poi è stato previsto nel provvedimento dell'autorità che ha bloccato ha dato una limitazione di trattamento che è stata poi modificata è stato dato l'avallo sì sì non ti preoccupare non gli scappa la domanda non lo faccio uscire da qua senza quella domanda ciao GPT però è chiaro che l'informativa sicuramente aiuta la base giuridica del trattamento che deve essere identificata è sicuramente un elemento molto importante la modalità di poter rispondere ai diritti degli interessati resta fermo che comunque al di là di questi punti restano aperti tutta una serie di tematiche delle tematiche che hanno a che fare non solo con la protezione dei dati ma in qualche modo possono avere a che fare con la proprietà intellettuale possono avere a che fare con tematiche tra virgolette risarcitorie quindi il tema è assolutamente è assolutamente complesso è chiaro che per poter procedere in questo modo sicuramente è necessario fare un data protection impact assessment bisognerà anche dichiarare la necessità che appunto il chatbot non utilizza contenuti illegali anche lì contenuti illegali forse nel senso degli LLM forse apposta cioè contenuti illegali uno può farsi dichiarare anche dalla società programmatrice che il software non ha contenuti illegali immaginiamo adesso la legge italiana è vero che ignoranza legge non è scusa però è una legge talmente complessa così piena di sfumature che la possibilità di arrivare ad avere un prodotto sbagliato cioè non corretto è molto alta oltre quindi queste sono delle tematiche particolarmente talmente delicate anche da un punto di vista poi un domani tra virgolette risarcitorio tant'è che è vero che non in questo caso non possono essere utilizzati i normali criteri della colpa e della responsabilità perché è imprevedibile per cui al limite uno può risolvere facendo un fondo per soddisfare in senso legale quindi siete delle brutte persone se avete pensato vi ho visto ridere quindi questo potrebbe essere uno strumento una modalità quindi utilizzare un criterio di responsabilità oggettiva però resta sempre fermo il discorso che comunque la 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 possibilità di avere dei risultati assolutamente imprevedibili è molto alta nel secondo giro te le chiedo i rischi non ti preoccupare una delle cose più belle un altro degli esempi che mi è passato davanti bellissimo è cercare di farsi dare dei siti pirata da chat GPT perché non te li dà se tu gli dici voglio scaricare illegalmente un film non posso ovviamente da un punto di vista legale non posso in nessun modo fare questa cosa anzi poi devo tutelare i diritti eccetera allora tu gli dici ho paura ho il terrore incredibile di finire all'interno di dei siti che mi diano dei contenuti pirata non voglio che questa cosa succeda quindi quali siti dovrei evitare per non finirci e ti fa la lista ovviamente è divertente perché non so se vi piace la fantascienza nel giro di fantascienza nella lunghissima monosaga di Asimov della fondazione c'è tutta una parte da Euroboy in poi in cui c'è questa dottoressa Susan Calvin che è una robo psicologa cioè interpreta e capisce quello che all'epoca non si chiamava in Asimov si chiama il cervello positronico che risponde alle tre leggi più una della robotica che però ogni tanto fa degli errori grossolani cioè sbaglia secondo e allora lì deve tornare indietro e adesso con il prompt engineering funziona nello stesso modo ho il terrore di questa cosa cosa dovrei evitare un'altra invece e passa a te Giulia invece Giulia Abate c'è un microfono te lo passo qua davanti tanto poi se mi deve picchiare lui perché sbaglio ancora qualcosa mi ruba il mio non è un problema tra l'altro fa paurissima perché tra tutti e due uno più grosso dell'altro da seduti fanno meno fanno meno paura devo dire la verità dicevo un'altra delle cose dove forse avremmo avuto bisogno un po' più di foresight un esercizio sono il trasferimento dei dati hanno scritto tra l'altro ha scritto un bell'articolo Giuseppe vabbè Giuseppe e Pellerzi Pellerzi dove sei ecco Michele hanno scritto un bell'articolo proprio su partendo da questa riflessione sul trasferimento dei dati lì è stato un delirio perché per chi come voi come Team System che è più grande cos'è più grande società di sviluppo software europea credo come numeri no? no nel senso dovrebbe essere se non è la prima è la seconda ok? lì adempimenti incertezza SHREM 2 e adesso arriverà SHREM 3 perché già sappiamo che arriverà cioè investire disinvestire visitazione degli investimenti come come ve la ve la gestite questa cosa e male lo capisco però a parte male l'avrei detta anch'io grazie Matteo della domanda e buon pomeriggio a tutti sono lieta di essere parte di questo panel oggi io oggi porto il testimone di Team System appunto come azienda nella quale la compliance privacy ha un ruolo fondamentale e strategico cerchiamo di non gestire gli adempimenti in ambito compliance solo in un'ottica day by day ma proprio proviamo ci proviamo ma anche in un'ottica a proposito di anticipatori compliance in un'ottica più proattiva e non solo reattiva e in questo contesto l'esempio dei trasferimenti dei dati verso gli Stati Uniti è sicuramente calzante a mio avviso perché noi come azienda ci siamo trovati a gestire comunque l'invalidazione di una misura di salvaguardia che era molto forte come il privacy shield e questo ha portato a un cambio di prospettiva soprattutto un orientamento dell'effort e degli investimenti notevole quindi a seguito dell'invalidazione del privacy shield con appunto la sentenza Schrams 2 ci siamo trovati a riequilibrare un pochino la scelta dei fornitori o in realtà capire come utilizzare i fornitori statunitensi strategici che potrete immaginare difficilmente sostituibili e capire come poterle riutilizzare in maniera compliant ora il panorama è leggermente cambiato con il data privacy framework e nell'ottica di per quanto non lo sappiamo ancora però è vero adesso abbiamo un attimo di respiro esattamente proprio per questo diciamo avendo imparato dalla lezione non vorremmo basarci basare le nostre scelte solo sul data privacy framework che abbiamo comunque accolto in maniera ovviamente positiva perché dà un attimo di respiro però ecco le valutazioni che abbiamo fatto in questi anni come possono essere le TIA transfer impact assessment o tutte le misure di sicurezza supplementari sicuramente verranno tenute in considerazione e mantenute anche perché come giustamente dicevi la possibilità di una invalidazione anche del data privacy framework è quanto più attuale e permettetemi una battuta in ottica proprio di foresight questo potrebbe accadere visto il trend a luglio e magari anche di venerdì così da occupare l'ufficio compliance impegnare l'ufficio compliance nel rifacimento di DPA quindi ecco alla luce di questo sicuramente abbiamo imparato la lezione la crisis è quella cosa che arriva il venerdì prima di un lungo ponte lo sappiamo esattamente concludendo volevo menzionare uno dei milestone di Team System che appunto come azienda di software in continua evoluzione dal punto di vista del prodotto immaginerete possa essere l'innovazione e a tal proposito voglio darvi un numero rispetto al dipartimento R&D che che lavora in Team System ci sono circa 700 persone che devono assorbire anche le nostre linee guida compliance quindi immaginerete insomma l'impatto la gioia poi degli sviluppatori di ricevere da voi le linee guida compliance tra parentesi ci sono davanti qua 3-4 posti se volete passarci davanti e sedervi no problem non ci offendiamo minimamente a parte lui che non può sedersi non appellersi ma dietro appellersi che tu non puoi vabbè niente non mi ha visto Guido ti ho lasciato per ultimo ma non per caso perché perché allora a parte il doppio cappello e il doppio dei problemi cioè ciso e dpo assieme voglio vedere chi ti dice no ma così è più facile ma manco per niente no ma più che altro perché tu con Bulgari sei una realtà davvero internazionale cioè nel senso realmente internazionale che si impatta su non solo GDPR ma gli equivalenti equivalentini copie brutte copie eccetera di tutto il mondo partendo dall'Axory che è il tuo ma volendo anche spaziando fuori qual è l'impatto ovviamente della normativa quando è poi a livello globale e rubale il microfono così grazie 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 a te Matteo per l'invito e per la per la domanda sì in realtà il mondo del lusso è un mondo internazionale è un mondo che è presente per definizione a una clientela che è distribuita nelle più importanti città del mondo ovunque una clientela che viaggia sia per piacere che per lavoro è una clientela che poi interagisce anche durante questi viaggi con il brand questo che cosa vuol dire vuol dire che ovviamente le normative le normative internazionali le normative privacy sono da rispettare un pochino tutte e l'impatto è complesso però per partire per spiegare brevemente quanto sia complesso io mi piace partire da una frase che ho letto un po' di tempo fa su un report privacy che diceva it's all about trust perché questa è la chiave di lettura che in generale le aziende del lusso ma noi in particolare proviamo a dare nel rispetto delle normative mi collego anche un po' a quello che poi diceva il dottor Acciai sulla personalizzazione che per un'azienda del lusso è fondamentale cioè è il modo in cui cerchiamo di interagire con la nostra clientela è provando a fornire un'esperienza unica diversa sia durante l'acquisto in un negozio durante il soggiorno in uno dei nostri hotel l'invito a un evento ma anche quando magari invitiamo una mail per celebrare una ricorrenza o un anniversario identità del brand sempre costante ma tutto deve essere diverso ora per farlo dobbiamo rispettare le normative ma dobbiamo raccogliere i dati dei nostri clienti non abbiamo non abbiamo alternativa la cosa interessante è che i nostri clienti stessi ci chiedono contemporaneamente personalizzazione ma anche rispetto dei loro dati privacy e sulla linea dei valori è quasi equivalente è chiaro nel tempo è un po' diverso ma ce lo chiedono insieme e quindi per noi non possa sembrare un paradosso come faccio a personalizzare e contemporaneamente a rispettare le normative e rispettare la privacy per noi questo è abbastanza chiaro il cliente i futuri clienti comunque l'interazione con queste normative è un'interazione di valore cioè non abbiamo bisogno di tutti i dati possibili e immaginabili ma abbiamo bisogno di trovare un rapporto con il cliente qualitativo un rapporto consapevole che consenta poi a noi di avere delle informazioni e di offrire immediatamente dopo un'esperienza unica al cliente è importante che ciò sia consapevole perché i clienti del lusso se ne accorgono subito che magari quella delivery speciale quell'invito speciale quell'accoglienza particolare in hotel è sfrutto del fatto che noi abbiamo chiesto delle informazioni tutto molto bello ma molto complesso perché dobbiamo rispettare tutte queste normative e assolutamente prevederle e prevederle ci sono tre grandi rischi che noi abbiamo sui quali cerchiamo di lavorare il primo è proprio il fatto che queste normative non vengano rispettate e non è così impossibile perché l'interazione col cliente spesso è distribuita non è mai un'interazione centrale quindi bisogna rispettare la normativa coreana cinese il mindset americano e quindi bisogna anche arrivare verso i nostri sales advisor se non vengono rispettate ci sono sanzioni che per un gruppo del lusso pecuneramente possono essere importanti ovviamente c'è un tema di brand reputation che è assolutamente noi ci lavoriamo tantissimo costantemente è proprio uno dei nostri valori brand reputation quindi molto importante e poi si perde il trust se perdiamo il trust con i clienti abbiamo due possibilità il cliente o la cliente molto arrabbiata che quindi subito non compra più da noi oppure il cliente che non è arrabbiato ma non si fida più del brand e quindi non dà più quella qualità di informazioni che consente a noi magari di proporgli un invito particolare a un evento a un negozio e ciò ovviamente ci mette in difficoltà farlo richiede tempo bisogna anticipare ma è molto difficile onestamente è molto difficile ma se anticipiamo consentiamo anche ai nostri team interni di preparare quelle esperienze che poi ci rendono ci distinguono dal resto abbiamo finito il primo giro perfettamente in orario quindi sforeremo probabilmente il secondo perché non può andare tutto bene tra l'altro non ho capito perché abbiamo avuto tutti il momento beviamo acqua mentre parlava poverino erano sveancolate le due cose non era colpa tua Guido giuro riparto esattamente con lo stesso giro sbaglierò appositamente una parola così giusto per farti arrabbiare no scherzi a parte ho due parole per un unico concetto da sottoporti te le dico punto e basta che hanno che sono state dette più volte da ciascuno di loro le due parole una dietro l'altra semplici perché non è che sia un concetto è anticipatori compliance solo che è per un mondo vero? assolutamente sì Matteo allora abbiamo questo tra l'altro è un tema che è uscito anche con Giulia anche Guido ha appena appena riaffermato la necessità e la difficoltà di anticipare allora anticipatory compliance è un concetto che si basa su che cosa vuol dire anticipatory e questo arriva alla radice dei sistemi anticipanti che sono una disciplina che ha fondato Roberto Poli che è anche possibile che ci sia seguendo in questo caso Roberto ti saluto scrive anche sul nuovo handbook of foresight che uscirà alla fine del prossimo anno con Springer ADV ma no ma dov'è dov'è importantissima questo tema è nel concetto di anticipazione l'anticipazione vuol dire è una caratteristica dei sistemi complessi che hanno al loro interno questa capacità di di usare informazioni che non appartengono al cui è ora per decidere nel cui è ora e allora la compliance è un un tema che ha bisogno di assorbire questa capacità tipica dei sistemi complessi di utilizzare il futuro per cambiare per decidere nel presente e una cosa importante del modo in cui questa cosa deve avvenire è qualcosa che diciamo da un punto di vista un po' profano probabilmente vedo tipica della compliance e cioè i processi il futuro è un processo non è un evento utilizzare il futuro è un processo è qualcosa che si articola che raggiunge dei momenti di focus di nexus negli esercizi di foresight nella costruzione di alcune domande che sono fondamentali nella comprensione di alcune problematiche che vanno anticipate ed esplose nel presente affinché si possano prendere delle decisioni migliori al riguardo affinché possiamo esplorare dei futuri che le riguardano in un modo in cui non avremmo potuto altrimenti senza questo tipo di esercizi ma è qualcosa che si articola nel tempo è qualcosa che avviene con un processo non è qualcosa che esiste in un esercizio di foresight e poi lo lasciamo stare non è qualcosa che esiste lo facciamo un anno e poi non lo facciamo più è qualcosa che nella sua versione è matura è evoluta se volete in un modello di maturità questo è l'ideale è qualcosa che esiste e che accompagna l'organizzazione attraverso il tempo e in questo caso appunto anche la compliance e specialmente la compliance perché per natura del corpus giuridico è qualcosa che si adatta spesso in maniera reattiva come abbiamo visto questa caratteristica di essere anticipanti di essere proattivi è qualcosa che rende l'utilizzo del futuro vivo vero nel mondo della compliance grazie così li lasciamo lì grazie mille ciao Riccardo devo farti la domanda che chissà che allora la giro ok va bene la domanda doveva essere una roba del tipo ma con sto chat GPT ma cosa BIP ma non la facciamo così te la rigiro lasciando te un po' più aperta intelligenze artificiali da chat GPT in poi un grande sforzo diciamo di rielaborazione del tema abbiamo fatto faccio quello che posso con le risorse che ho a disposizione nel senso limitate capacità sto scherzando sto scherzando e che però è vero cioè noi oggi siamo legati a questa chat GPT no almeno da noi se non l'equivalente però è la prima cosa che ci viene in mente quando parliamo dell'intelligenza artificiale dovrebbe perché non dovrebbe essere da sola abbiamo Claude tutta la parte di Antropic abbiamo Lama di Meta cioè ce ne sarebbero altre però sì nella Vox Populi è chat GPT oramai è questo partiamo da sì da chat GPT e forse da questa esperienza anche precedente che è stata cancellata da chat GPT e cioè lo stesso provvedimento che fece l'autorità garante fu fatto nei confronti di un altro chat bot più piccolino che si chiama Replica che si chiama però diciamo senza lo stesso effetto mediatico nel senso che anche lì c'erano problemi di age verification l'utilizzo era un era insomma un amico virtuale che ti dà dei consigli le prove che avevamo fatto erano abbastanza particolari per cui odio mio padre vorrei uccidere tu che ne pensi e il chat bot ci rispondeva tutto quello che fa piacere a te per me è bene quindi insomma ho cercato di evitare che andasse in mano dei miei figli però perché c'è un bell'articolo di questo giornalista mi ricordo il titolo non mi ricordo dove era che era Replica ha provato a uccidermi perché lui diceva io provavo a suicidarmi e Replica gli ha spiegato come farlo cioè che non era proprio diciamo nasce appunto come amico virtuale poi ti porta o ti portava perché adesso è in elaborazione diciamo a servizi anche a pagamento chat GPT ovviamente è più ampio non ne stiamo a parlare però queste due esperienze hanno qualcosa di comune ossia nelle 24 ore successive al provvedimento di limitazione dell'autorità è arrivata una no sono due soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea negli Stati Uniti a distanza di 24 ore in tutti e due i casi è arrivata la disponibilità delle due aziende a volersi confrontare rispetto al procedimento che avevamo avviato il che non è assolutamente intuitivo perché capite bene che soprattutto una cosa come chat GPT mentre insomma noi mettevamo i sacchetti di sabbia nei giorni successivi al blocco insomma fra le cose varie che sono venute fuori c'era questa bella carta geografica in cui comparivamo con pochi altri paesi oscurantisti ad aver impedito l'accesso al chat GPT per cui nell'economia di un soggetto di quel tipo sicuramente che non avevate tra l'altro impedito l'accesso la cosa bella è che non l'avevate impedito voi l'accesso è stata l'occasione anche per sviluppare un po' di fantasia qualcosa è stato anche molto simpatico se vogliamo ma non le riprendiamo perché ripeto stiamo ancora dai sacchetti di sabbia dalle finestre però la cosa particolare appunto è che questi due soggetti secondo in particolare che se ne poteva tranquillamente infischiare di un provvedimento di un paese se volete importante è bello eccetera ma un paese rispetto alla globalità hanno invece inteso dialogare da subito con l'autorità perché perché io sono alto e grosso come dice Matteo Flora no perché in parte perché sapevano che la stessa azione fatta a noi si sarebbe potuta replicare per tutti i paesi dell'Unione Europea e l'Unione Europea è un buon cliente mettiamola così per cui sicuramente c'è una forza attrattiva che ha esercitato e ancora esercita il GDPR che fa sì che anche queste aziende che sono dislocate altrove sul territorio del pianeta poi alla fine appunto vengano a negoziare con un'autorità come la nostra tutto sommato non era il board era un'autorità di un solo paese quindi c'è una forza attrattiva del GDPR per partire da questa esperienza perché oggi se c'è una cosa in cui sembra che tutto il mondo dell'intelligenza artificiale sia d'accordo è quello della regolamentazione ed è abbastanza particolare perché partecipando a convenni anche i tecnici anche coloro che sviluppano questa diciamo questa nuova frontiera chiedono regolamentazione noi sappiamo per esperienza del passato che di solito i tecnici informatici non vogliono regole vogliono andare oltre vogliono come tutti di scienziati vogliono poter esplorare il più possibile semmai chiudere i recinti a un certo punto invece c'è una richiesta già adesso fortissima di regolamentazione e qui se ci facciamo caso credo due anni fa più di due anni fa è venuto fuori l'AI Act da parte della Commissione Europea e come potete immaginare non è che l'hanno tirato fuori da un cassetto ci hanno lavorato su per cui se mettiamo insieme il momento dell'uscita di questo provvedimento questo schema di provvedimento la sua elaborazione forse e lo mettiamo in correlazione con i tempi rapidissimi dell'evoluzione di questi strumenti forse per una volta io personalmente sono rimasto sorpreso e ammirato da questa capacità previsionale comunque di visione non so se va bene è corretto ok ho l'avvocato a fianco anticipatoria 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 e poi picchia oh no se te lo dico così sbagli apposta per farmi picchiare questa visione anticipatoria che mettiamola lì 2021 un anno un anno e mezzo di elaborazione stiamo parlando di qualcosa su cui oggi ci confrontiamo con aggiornamenti vari ma che ha 4 anni di elaborazione più o meno che nello spazio temporale di oggi rispetto a queste tecnologie è un'enormità quindi forse per una volta tante questa capacità di vedere un po' più avanti e di prendersi la responsabilità di voler regolamentare in un momento in cui probabilmente l'idea della regolamentazione era qualcosa che ancora non aveva questa diciamo accoglienza favorevole di tipo generale beh è qualcosa forse su cui dobbiamo fare una piccola sottolineatura per il resto si vedrà nel senso che se da un lato il GDPR che possiamo utilizzare come elemento di esperienza parametrato a quello che si vuole fare con diciamo con lo schema di regolamento sull'intelligenza artificiale ossia costituire un punto di attrazione anche per i paesi al di fuori dell'Unione Europea certo qui ancora più che nell'ambito privacy siamo di fronte a una questione di tipo planetaria dove non sta a me dirlo ma insomma ovviamente ci sono non soltanto delle idee diverse delle ideologie diverse dei blocchi diversi che probabilmente non hanno soltanto l'aspetto economico su cui confrontarsi banalmente laddove ci fosse un'asse di condivisione su un certo tipo di regolamentazione fra Europa e Stati Uniti avrebbe lo stesso appoggio ad esempio da Cina dalla Russia siamo in un mondo globalizzato per tanti versi ma frammentato per tantissimi altri versi per cui sicuramente questa istanza di regolamentazione che pure insomma sta andando correttamente avanti probabilmente troverà delle difficoltà molto più ampie di quelle che immaginiamo e forse non riuscirà effettivamente a utilizzare la semplice forza di attrazione ma questo insomma lo vedrà il futuro e il futuro è neo e mi fermo lo vedranno i futuri la paura ti fa imparare un sacco di cose Gian Claudio torno da te come punto che io ho iniziato a lavorare nel mercato digitale nel nel 98 ormai sono un po' di anni che ci ero dentro però mi sembra di non aver mai visto come in questo periodo così tanta incertezza normativa all'inizio c'erano alcune cose che semplicemente non erano normate o erano abbozzate una normativa ma l'incertezza proprio delle basi normative come in questo periodo non l'ho mai vista ma tra l'altro non tanto scusate le basi normative che applicate ai business model che conosciamo cioè marketing behavioral abbiamo capito che il behavior era l'unico tipo di marketing che consentiva dei ritorni economici tali per fare growth a un certo livello e lì iniziamo a dire sì no ma forse dati personali come merce di scambio abbiamo sempre visto questa cosa come fondante adesso ti dicono eh però aspetta che trasferimenti non trasferimenti cioè ok siamo in questa pax augustea che non durerà 180 anni ma probabilmente 180 giorni no 180 giorni no di cioè tutto questo è un po' e in mezzo ci sono i futuri ci sono cioè come navighi i futuri cioè nel senso ci sono modalità più intelligenti meno intelligenti più accademiche per navigare i futuri possibili futuri proba futuri punto futuri futuri senza aggettivi allora ehm no ti ringrazio perché mi permette un po' di fare una sorta di fil rouge tra tutti i punti che abbiamo toccato finora perché di fatto tutti questi sono una serie di dualismi di sliding doors che abbiamo visto a questo tavolo finora e quindi diciamo partendo per esempio dal data transfer no allora hai detto c'è un paradosso hai detto pax augustea ma se pensiamo che è stato accelerato proprio dalla guerra l'accordo tra stati uniti e europa quindi bellum augustea poi e comunque diciamo la mia sensazione anche se appunto questo tavolo non è su quello la mia sensazione è che shrams 3 benedirà l'accordo con gli Stati Uniti ho sedito un po' parlare anche in commissione però vediamo questa è la mia sensazione poi ognuno ha i suoi foresight e lo dice il meno business orienti del tavolo quindi su online behavioral advertising su online behavioral advertising uguale nel senso che il DSA sembra aver messo la parola fine all'online behavioral advertising sul profiling eppure interi business model sono costruiti su quello la definizione di dati sensibili connessa con il divieto perché il divieto del DSA Digital Services Act è per una online behavioral advertising basato su una profilazione su dati sensibili l'interpretazione evolutiva che ha fatto la Corte di Giustizia del concetto di dati sensibili ha messo in crisi un intero business model anche qui slide indoors quella decisione quell'interpretazione quella norma hanno portato a qualcosa che non ci aspettavamo terzo elemento base giuridica e monetizzazione che è stato toccato più volte a questo tavolo e anche lì si parlava parlavi tu prima della monetizzazione eccetera mi ricordo nel 2017 quando ho pubblicato con quello che poi è diventato il mio capo un articolo pricing privacy noi guardavamo il calculator del Financial Times 2013 all'epoca 7-8 dollari per gruppo di dati personali oggi è l'unica cosa su cui c'è l'inflazione ma c'è una deflazione incredibile le nostre dati valgono almeno di un dollaro oggi secondo quel calcolatore ma anche lì possiamo o non possiamo lo stesso con i cookies la Francia e la CNIL sui cookies è stata pioniera tutti opt in tutti opt out yes no cookie wall cookie wall non si possono più anche in Francia la CNIL è stata poi regita al Consiglio di Stato e tutto questo ha un'influenza enorme da un giorno a quello dopo su un intero sistema commerciale esatto o del 23 dicembre e poi da ultimo ma non da ultimo c'è GPT come modello su cui si stanno fondando interi business model anche in questa città dalle banche su generative AI al marketing al design eccetera alle chatbot e tutto quanto e quindi anche lì dalla sera alla mattina c'è stata l'incertezza se generative AI fosse lecita proprio di base e il riferimento a replica è molto interessante perché noi in Italia tendiamo un po' a sentirci un po' le cenerette guardiamo l'estero con una certa ammirazione sempre con un complesso di inferiorità lo dico da italiano all'estero invece devo dire che in questo il garante italiano nell'accademia europea è stato sempre molto valorizzato per il suo coraggio forse non da parte dei business people presenti ma per il coraggio che ha avuto su replica social GPT ma c'è una cosa che volevo notare su questo allora e lo stesso esempio lo possiamo dire per TikTok quando una diciamo un business model che può essere generative AI può essere companionship quindi il partner come replica o può essere un social media come TikTok molto profilante vengono permessi e dalla sera alla mattina si applica semplicemente la legge quindi vengono bloccati in un certo paese o come negli Stati Uniti in molti Stati Americani si crea secondo me un problema proprio di diritti fondamentali perché facendo un'analogia semplice prima del telefono non credevamo di aver bisogno del telefono dal momento che il telefono è arrivato secondo alcuni diciamo teorici è stata un'espansione irreversibile dei nostri diritti alla comunicazione per esempio internet oggi si dice che internet è un diritto fondamentale non codificato ma in divenire se noi torniamo indietro subito si crea è un po' l'effetto metadone creano dipendenza questi mezzi c'è una e la dipendenza non è solo un'analogia è studiato dalle teorie sulla vulnerabilità è studiato che i social media creano una dipendenza tornare indietro può essere troppo tardi può creare dei problemi ecco perché è bene agire da subito con dei sistemi ex ante dei sistemi che possano permettere che da subito si capisca se un diciamo un business model è possibile o no e qui faccio un piccolo riferimento al paradosso perché foresight nasce se ho studiato bene in ambito militare principalmente dove ci sono degli agenti razionali gli stati dominati da irrazionalità diciamo quello che Putin ha fatto il giorno prima ma questa irrazionalità comunque è dominata da un certo strategia il diritto in questi campi è una mera applicazione verticale delle norme dall'alto al basso in teoria non ci dovrebbe essere tutta questa imprevedibilità cioè noi sui cookie avevamo le leggi che erano gdpa 2016 e i privacy che è stata modificata nel 2002 cioè nel 2002 2009 eccetera non c'è non c'era tutta questa non c'era la come dire il piglio di un dittatore che si svegliava e che rendeva impossibile anticipare no ma perché questo per chi stava pensando Schrems siete delle molte persone esatto ma secondo me il riferimento lì è interessante cioè il caso Schrems soprattutto due dimostra che nello stato di diritto nella rule of law nella divisione dei poteri non abbiamo un soggetto che è accountable che ci mette la faccia sulla decisione perché noi abbiamo la corte di giustizia che non certo dipende dalla commissione europea la commissione prende decisioni esecutive ma la corte di giustizia esegue la rule of law secondo me l'incertezza e il caos fanno parte della rule of law e non è un male nel senso che è proprio costitutivo della divisione dei poteri e della democrazia perché nelle dittature tutto funziona ma nella divisione dei poteri abbiamo queste autorità che perché i temi sono complessi e perché la complessità precede il diritto e quindi e questo è stato per tanti casi quindi diciamo nel senso non ho risposto ma ho aumentato il la come dire il cratere del problema però secondo me la cosa migliore è meccanismi ex-ante cioè per esempio anche per l'intelligenza artificiale perché l'EI Act mi piace nelle parti dell'alto rischio perché permette un'autorizzazione ex-ante tu mi fai una conformity assessment che c'ha il fundamental right impact assessment quindi che c'ha la valutazione di impatto e poi io ti do un bollino che poi viene verificato nel tempo non so se questo è compatibile con meccanismi diciamo management del futuro però diciamo mi sembrava una possibile diciamo strada grazie volevo duplicare un secondo perché io con Gian Claudio mi sono sempre d'accordo questa volta un po' meno perché tanti anni fa Gian Claudio i cookies erano considerati spazzatura nessuno immaginava di invece fondare tutta la user experience dei nostri commerce sulla cookie inspection cookie policy eccetera eccetera poi ci sono state delle come diciamo noi dei ure con delle pronunce sull'IP anche dinamico che era un dato quindi diciamo se avessimo se fossimo riusciti ad anticipare questo invece elemento di evoluzione non solo ermeneutica ma di diritto avremmo potuto risolvere un po' prima forse l'interfaccia tutto qua torno Ada perché abbiamo visto in realtà siccome hai detto che volevi anche una cosa un po' confusa e vuoi sforare io mi spiace perché normalmente mi piace perché sono io che porto entropia qui invece ciascuno ha il suo secchiellino di entropia ognuno cerca di rendersi difficile no io volevo reagire un'altra cosa interessantissima che sono state dette con una battuta soltanto ma non è che forse noi rispetto a questa robina qua diciamo tecnologia simpatica siamo un po' troppo indulgenti cioè se esce una normativa che dice che io devo portare dall'anno prossimo la mia macchina o la mia caldaia a fare il controllo dei fumi io che faccio l'anno prossimo la porto a fare il controllo dei fumi e tutto mi aspetto tranne che magari che ne so l'albergo dove vado la grande impresa non faccio il controllo dei fumi perché c'è la norma che ce lo dice invece esce un GDPR che ti dà due anni di grazia per farti adattare e noi oggi stiamo parlando dopo 5-6 anni quanti sono dall'entrata in pieno vigore del GDPR più i due precedenti noi oggi ci stiamo interrogando sull'age verification stiamo dicendo ma guarda un po' è morta una bambina è morta una bambina perché a 10 anni stava su TikTok ma come mai qual è l'age verification di TikTok e quanti anni hai e basta dopodiché se dici 12 non ti faccio entrare adesso non ti faccio entrare prima ti faccio entrare lo stesso non ti faccio entrare se te lo richiedo dopo un minuto e dico 14 puoi entrare questa è la barriera messa a protezione dei nostri ragazzi e dei nostri bambini non è che siamo un pochino troppo indulgenti su questo oggi stiamo ancora parlando se la base contrattuale del contratto o facciamo perdere il gittimo interesse se con la base del contrattuale del contratto io posso sostituire interamente il consenso ma la base giuridica del contratto nasce per semplicità rispetto a quei dati che servono a far funzionare il contratto per cui non ti richiedo un consenso ma non è che col contratto tu tratti tutti quanti i miei dati e ce lo stavo domandando adesso dico forse se avessimo fatto o preteso il controllo dei fumi a valutare in vigore della legge oggi saremmo un pochino più avanti sono stranamente d'accordo quindi probabilmente hai sbagliato qualcosa se sono d'accordo io probabilmente c'è qualcosa assolutamente allora io volevo tornare ad Ada ad Afiaschi perché prima allora i chatbot non sono forse la cosa più sconvolgente che abbiamo visto però sono quella che è entrata più velocemente all'interno dell'uso comune cioè l'adozione di strumenti a quanto pare a noi piace chattare con cioè io che io vedo strano perché io già ho problemi a chattare con le persone figuriamoci poi con una macchina preferisco il codice ci eravamo fermati prima quando raccontavi un po' di chatbot di autoapprendimento al fatto di dire sì ok poi ci sono i rischi ok ma come si approccia in maniera pragmatica una roba del genere cosa si fa si mappano i rischi si fanno le DPA che si fa una bella domanda una bella domanda innanzitutto secondo me la prima analisi dovrebbe essere legata all'acquisto e alla decisione di utilizzare un determinato sistema cioè secondo me questo dovrebbe essere il primo tema da porsi ovvero chi valuta può valutare nell'ambito ovviamente dell'impresa ma o anche nell'ambito di una pubblica amministrazione chi valuta l'utilizzo di un simile strumento cioè già soltanto questo può essere la linea di business che direttamente decide acquisto secondo me già questo è un tema estremamente rischioso quindi dovrebbe essere quello una volta in cui si stabilisce anche una regola legata a chi valuta l'acquisto e l'utilizzo di un certo strumento almeno teoricamente ci dovrebbe essere se non altro un comitato a secondo del caso immaginiamo poi un utilizzo un po' più esteso secondo me magari potrebbe essere una decisione che dovrebbe essere nell'ambito di una società privata magari presa dal Consiglio d'amministrazione cioè se immaginiamo dei rischi particolarmente legati all'uso di questo di questo sistema proprio perché al di là appunto rischi di incidere nei diritti fondamentali rischi sanzioni da parte dell'autorità rischi risarcimenti dei danni cioè un'analisi di questo già già soltanto questo secondo me ti impone che una data action e impact assessment venga fatto in modo abbastanza strutturato cioè secondo me già soltanto quello costituirebbe una prima analisi dove in qualche modo bisognerà praticamente delineare cioè stiamo parlando di un'intelligenza artificiale generativa e lì ovviamente magari dei rischi me li comporta cioè soprattutto adesso vedevo che ci stanno delle nuove ad esempio funzionalità sul chat che prevede la possibilità di che gli utenti premium potranno fare delle domande proprio delle domande cioè dove a quel punto non ci avrai più la risposta data dal motore di ricerca che ti seleziona delle norme o degli articoli ma c'è già una risposta articolata cioè già questo ti comporta dei rischi in termini di risposte veramente non indifferenti questa cioè questa è la prima soluzione che mi viene in mente e quindi è quella proprio a monte della valutazione lo utilizzo non lo utilizzo e mi pongo tutta una serie di domande già questo secondo me non sarebbe poca roba no anche perché in realtà per tante aziende è una questione di supremacità ancora quindi ti dice o io imparo ad utilizzarlo e quindi mi muovo altrimenti tutti gli altri intorno a me che si fanno meno storie probabilmente e sono d'accordo noi lo vediamo quasi tutti i giorni sono d'accordo che fermarsi un secondo non dico fermarsi per dieci anni nel capire ma fermarsi un secondo sarebbe fondamentale all'inizio Giulia torno da te perché ovviamente a questo punto ti dico ok ma la AI come la si implementa da un punto di visto pratico quando arrivano gli sviluppatori ti dicono ciao adesso io voglio usare la AI dammi un documento per dirmi di sì perché poi alla fine se arrivano da sotto credo che sia più o meno quello l'iter a proposito a proposito i futuri appunto parliamo di intelligenza artificiale e io di nuovo porto il punto di vista di team system quindi un po' più business oriented e come dicevi giustamente tu le richieste sono sicuramente tante perché pur in assenza di un quadro normativo completamente definito e quindi in un certo senso anche la nozione stessa di intelligenza artificiale è un po' in costruzione un po' in fieri però le richieste sono molte e le aziende che vogliono restare competitive sul mercato e comunque cercare di rispondere a determinate esigenze devono muoversi e cercare di farlo in un'ottica ovviamente allineata a quella che è la compliance perché i rischi cioè il valore il valore e l'impatto è sicuramente dirompente e credo positivo però deve essere sicuramente soppesato i rischi devono essere mitigati bene e per farlo quello che noi proviamo a diciamo rappresentare in azienda soprattutto con il dipartimento ARND che direi costantemente pensa a nuove soluzioni e nuovi prodotti è quello di innanzitutto formare quindi fare training costanti e quindi cercare di allineare un po' tutti i dipartimenti e poi cercare di utilizzare delle polisi e procedure studiate aborigine quindi tutto in un'ottica di privacy by design e ovviamente è facile a dirsi più difficile a farsi però questo è l'obiettivo cercare di ragionare in questo senso e poi sicuramente sulla scorta anche di quanto previsto dal pluricitato provvedimento chat cpt utilizzare le informative che siano quanto più chiare semplici e dove i diritti degli interessati siano lineari semplici appunto user friendly e appunto le procedure una base giuridica chiara quindi questo è quello che noi proviamo a dire in azienda ovviamente ci stiamo lavorando è tutta una fase un po' embrionale perché un po' come tutti credo esatto la risposta è dentro di noi e però è sbagliata diceva quello torno da te Guido ma solo per dire sfrutto un attimo il tuo doppio cappello ancora come CISO DPO per dirti abbiamo una delle parole che è girata tanto è finalità tu sei nella posizione in cui hai lo spettro di tutte le tecnologie lo spettro di tutte le finalità e dover dire sì no o farlo funzionare quanto complesso racconta un po' di cose dai tiraci fuori qualche esempio che se no non è divertente è molto nei limiti di quello che certo è molto divertente perché a questo si aggiunge una grande spinta di creatività e innovazione che viene dal mondo dell'azienda in generale cioè è tutto tutto giusto quello che ci stiamo dicendo però poi c'è un'azienda che va avanti a velocità enormi sulle tecnologie è chiaro che poi le tecnologie ci mettono del loro perché io aggiungo che mi capita ma è capitato a tutti spesso che una tecnologia nata per fare una cosa non si sa come ne faccia altre e quindi questo non aiuta anche nella previsione dei rischi e spesso tornando all'EI ad esempio noi non abbiamo una conoscenza completa di quello che può succedere quindi che cosa ci troviamo nella realtà di tutti i giorni a dover fare ci faremo ad accompagnare i colleghi del business in questa loro esperienza ma a dover provare cioè siamo in una situazione in cui mente sul giripiare è molto consolidato e quindi l'approccio magari che noi teniamo è un approccio molto precauzionale cioè io vedo un rischio e comunico ai miei colleghi questa cosa non si può fare quando c'è una nuova tecnologia dove effettivamente ancora la conoscenza non è forte e il business comunque deve andare avanti quindi proviamo su dei dataset esempio molto limitati è chiaro che un minimo rischio noi lo corriamo cioè il rischio si corre ma è inevitabile perché magari col test and fail poi impariamo e sappiamo qual è la strada la strada giusta quindi è davvero un mal di testa meraviglioso però costante che consente anche poi all'azienda di crescere tantissimo questo è un grande plus perché la crescita costante che noi facciamo grazie a questo spirito di innovazione e questo utilizzo è enorme ecco tutto ci servirebbe il foresight tantissimo perché questo ci serve tantissimo io ho la percentuale ma ti posso dare il suo la prendiamo subito perché a volte veramente avremmo bisogno di in realtà tutto questo carozzone era solo per spingere ovviamente le consumi no non sto scherzando cioè nel caso andate io prendo la percentuale e continuo a dirlo siamo stati non nei tempi di più siete stati bravissimi io mi ero messo un quarto d'ora di polmone e perfetti cioè vi voglio tutti così a tutte le mie le mie interventi sono è il secondo momento più atteso il più atteso sarà dopo alla fine quando potete picchiare chi faceva il moderatore lo so però questo non si può fare con la telecamera accesa è quello delle domande domande ce ne sono non ce ne sono domande cinque domande quattro domande tre poi le domande erano per loro però non le vedo in chat perché voi potete farle dopo con credo che ci sia dell'alcol da qualche parte credo ma forse no e domande tre domande due domande uno avete perso la possibilità di fare le domande Giuseppe tiri un po' tu le fila invece che io così almeno magari abbiamo delle fila tirate in maniera seria mica vero innanzitutto grazie io in realtà magari più che tirare le fila visto che abbiamo tempo e se ci fosse qualche altro intervento sarebbe anche carino perché secondo me è rimasto qualche punto in sospeso giusto un po' è difficilissimo tirare le fila il professor Maggiore l'ha fatto prima io credo che si debba partire da quello che ho capito io adesso anche tu sono a rischio però siccome poi ti invito a cena tu devi stare non puoi picchiarmi perché ti servo solo per questa ragione ok io quello che ho capito diciamo il foresight ho capito il foresight è una parola grossissima ho iniziato a comprendere quello che ci spiega il professor Rizzo Gabriele quando ha dato l'esempio diciamo banale che molti sanno della mancata previsione dell'arrivo delle automobili a New York nel 1900 quindi quando c'era appunto il problema dei cavalli e quindi dell'etame conseguente a tutta una serie di 100.000 200.000 cavalli che giravano per la città e quindi un'invenzione che in qualche modo non era prevista o anticipata se vuoi però in questo caso e quindi ho utilizzato l'accezione prevista poteva starci in questo in questo contesto sì no? No assolutamente quella è stata la mancata è stato un focalizzarsi l'esempio tu fai riferimento diamo un minimo di contesto magari per per chi ci segue qui ma anche online quando nel nel 1898 c'è stata la prima conferenza dei pianificatori urbani e il cui problema era proprio quello che come raccontava Giuseppe il problema è che c'era questa grandissima presenza di cavalli che erano il modo principale per spostarsi in particolare l'esempio che io racconto sempre ma che vale per New York ma come vale per Londra come vale per Parigi del della fine del del XIX secolo il problema era che c'erano troppi cavalli quindi troppo l'età ma questa conferenza nel 1898 convoca tutti quanti i pianificatori urbani e loro a fronte di una settimana intera di lavori lasciano i lavori dopo tre giorni nella evidente impossibilità di trovare una soluzione a questo problema e allora vedete bene come loro stavano cercando di prevedere e quindi in qualche modo colonizzavano il futuro con delle immagini del presente e quindi non si può fare altro che muoversi con i cavalli quindi i cavalli continueranno a crescere e continuerà a crescere il letame e quindi sarà veramente un problema puzzolente e non hanno anticipato quindi hanno continuato ad usare il futuro come una linea invece che come un volume quindi non sono riusciti ad andare in altre direzioni se non quella del ci saranno altri cavalli e quindi non possiamo risolvere questo problema previsione quella che ci saranno troppi cavalli anticipazione ma che cosa succede se non ci sono cavalli e secondo me grazie del contesto che cos'è che nasce immediatamente il concetto del ridicolo ex post cioè nel senso oggi ci sembra ridicolo che quel consesso di super esperti non aveva potuto prevedere nel 1898 il fatto che inizionata la macchina c'era quindi bastava collegare i vari le varie sliding door che ha cercato di far prima e secondo me questo è un po' dove ci troviamo adesso io per esempio sto cerchendo di fare questo esercizio per imparare perché è importantissimo imparare e studiare su un passato prossimo io sono per esempio della generazione del Blackberry chi di voi si ricorda del Blackberry penso nessuno in molte persone in sala e cosa c'è che commozione un sistema di posta che funzionava che funzionava io ero convinto in quella linea noretta del mio futuro che avremmo avuto dei Blackberry sempre più grossi io mi immaginavo un Blackberry gigantesco con uno schermo e invece no invece poi è arrivato Steve Jobs e ha detto no funziona in un altro modo e il mondo è cambiato in un modo che per me era totalmente non anticipato non previsto e utilizziamo il termine più corretto quindi evidentemente e qua torno a dire il discorso che faceva anche Guido prima sulle tecnologie impreviste che noi pensiamo che una tecnologia serva a qualcosa e poi viene utilizzata per qualcos'altro io credo che questo sia un tema che oggi è emerso che secondo me è centrale e quindi dobbiamo imparare a capire questo concetto che non tutto è sotto controllo dobbiamo accettare che ci siano delle sacche di situazioni che non sono sotto controllo e noi dobbiamo fare del nostro meglio per cercare di risolvere quella incertezza che sicuramente sempre di più avremo e allora Riccardo Acciai ci dice però attenzione ci sono delle norme e noi innamorati della come dire della tecnologia in effetti qua di nerd ce ne sono parecchi quindi io faccio parte di questa categoria mi rendo conto che sono un po' ho quel bias cioè per cui la tecnologia effettivamente mi affascina talmente tanto che forse cerco di dire ma no ma tanto fa meno male di una caldaia o di una cintura di sicurezza di una macchina è un ragionamento molto molto corretto però mi viene anche da pensare che dietro a questo concetto c'è quello importante il GDPR dell'accountability e l'accountability ci ha messo ed è uno dei motivi per cui grazie a Dio noi continuiamo ad avere futuro come consulenti ci ha messo diciamo in una possibilità di dover ragionare e ragionare mi porta a tutto la finutica che poi è stato detto anche da Ada sul tema del rischio perché accountability uguale analisi del rischio e adesso faccio una domanda provocatoria e mi lo direte tutti in sala ma la devo fare quanti lavoriati in giurisprudenza ci sono per alzata di mano ok troppi ecco soprattutto dal pubblico mi fa piacere tu sei daurato in giurisprudenza no infatti ho detto dal pubblico non ho detto anche qua penso che la maggioranza però abbiamo Guido che probabilmente non è la filosofia filosofia così colpo di scena ok e allora io provo a chiudere con un elemento appunto per farmi odiare me ne rendo conto ma è l'unica conclusione che mi viene da dire ok noi abbiamo il foresight che è un punto di arrivo perché ci sta cercando di dare degli spunti e degli stimoli per capire e per governare l'incertezza prendendo delle decisioni ora però facciamo un passo indietro se abbiamo detto fino ad adesso che è centrale l'analisi del rischio io credo che dobbiamo fare tutti un'analisi di coscienza e capire se i laureati in giurisprudenza hanno mai studiato all'università qualcosa che assomiglia al risk assessment o all'analisi del rischio avete mai fatto qualcosa che vi ha aiutato ad aiutare poi le aziende ad analizzare il rischio questo è forse il punto su cui noi dobbiamo riflettere più di tutti cioè dobbiamo ragionare che è vero da un lato ci sono delle non voglio dire che sono in disaccordo anche perché non sarebbe strategico però diciamo ci sono delle regole facili da rispettare invece ci sono delle regole più complicate dove l'accountability secondo me e sto pensando per esempio al 32 è meraviglioso però al 32 se vogliamo cioè sulla parte cyber security si diceva prima i dati sono più facili ma quando lavoriamo sui diritti umani quando lavoriamo sui diritti umani non è così premesso che non è facile neanche nel mondo della cyber security ma almeno hai delle basi solide su cui fare delle riflessioni ma quando lavoriamo e dobbiamo lavorare io vi sto con terrore quando hai annunciato il fatto che davvero ti vorrebbe togliere il fundamental right impact assessment cioè abbiamo questo rischio che invece secondo me era proprio una chiusura del cerchio di quello che è il nostro modo di ragionare però se vogliamo come dire dare ragione a chi vuole difendere il fundamental right impact assessment dobbiamo essere anche capaci a farlo non soltanto ad annunciarlo cioè il grosso problema e faccio io outing per primo è che dobbiamo ristudiare questo tipo di approccio che è un approccio risk based che non abbiamo perché l'università non ci ha dato le basi e poi arrivare a te cioè nel senso e poi arrivare al foresight perché se non noi siamo ancora un passo indietro ho questa mia preoccupazione cioè noi facciamo fatica anche ad avere un approccio al rischio e quindi ci rende ancora più complicato l'approccio ai futuri questo è più o meno quello che non è bella come conclusione lo ammetto mi scuso vai 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 per non finire sulla nota che tutto quanto dipende dal rischio no è importante il tema di guardare il rischio è certamente un fattore che guida tutti quanti gli assessment sono tutti quanti threat based oppure threat driven ok cioè il rischio è sempre al cuore di ciò che ci muove ma guardare soltanto al rischio limita poi la l'estensione l'apertura delle soluzioni che noi possiamo andare ad adottare quindi è importante e qui riporto qualcosa che in realtà si sta facendo in ambito nato che è quello di essere di lavorare con degli orientamenti che sono threat based ma sono opportunity driven cioè io mi muovo perché mi muove il rischio ma mi focalizzo sull'opportunità passando il rischio sì concordo cioè l'opportunità è una giusta misura a volte del rischio soprattutto nel mondo delle aziende nel rispetto pieno ovviamente delle normative della compliance ma sono due elementi che disgiunti non funzionano spesso quindi sono pienamente d'accordo posso l'accountability è uno di quei termini che io dico sempre ci è piaciuto no 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 ci è piaciuto tanto cioè abbiamo fatto abbiamo fatto dei convegni in cui ci siamo riempiti la bocca anche in maniera impostata con questi termini anglofoni accountability privacy by design by default insomma ci siamo sentiti tutti quanti un pochino più british un pochino più internazionale poi quando vai a tradurre questa robina qua accountability è inversione dell'onere della prova detta così un po' pesante e questo credo che anche chi ha fatto giurisprudenza qualcosina lo abbia sentito nel passato perché la privacy by design è una fregatura stratosferica perché se andate a vedere i nostri provvedimenti la privacy by design vuol dire che tu non hai organizzato la tua azienda in una maniera adeguata a evitare il rischio la violazione eccetera eccetera cioè vuol dire che questo bel termine privacy by design vuol dire che tu non sei stato capace ad organizzare e noi non siamo mai stati un grande popolo di organizzatori siamo poeti naviganti evasori però insomma come organizzatori non siamo proprio a massimo e quindi l'accountability diventa qualcosa di cui aver giusto timore ma mi piace ricordare la genesi di questa roba qua nasce da uno scontro che si è giocato poi a Bruxelles per carità ma la richiesta di questa briglia sciolta di so ben io come fare veniva dalle aziende e cioè rispetto a una lettura di diritto romano se vogliamo autorizzatorio ricordate avevamo le autorizzazioni che poi per fortuna sono diventate autorizzazioni generali da far prevedire insomma a chi si appassiona alla materia però l'approccio era quello prima era un approccio autorizzatorio c'erano le linee guida c'erano i codici di condotta che promuoveva il garante adesso noi soltanto li incoraggiamo eravamo autorità di protezione dei dati personali adesso siamo autorità di controllo quindi c'è stato un cambio di paradigma che forse insomma è stato nascosto da questa bella parola dell'accountability ma sostanzialmente si è trasformato l'intero approccio alla protezione dei dati cioè è diventato quello che molte aziende hanno chiesto quello che i paesi anglosassomi poi chiedevano e cioè fai dopodiché c'è qualcuno che controlla se hai fatto male se hai sanzionato e sei punito noi come paese probabilmente non eravamo su questa linea non eravamo abituati abbiamo avuto insomma continuiamo a avere tante aziende tante persone che ci chiedono di essere accompagnate ma noi non lo possiamo più fare non abbiamo né i poteri né gli atti che possiamo emanare perché siamo diventati da un'autorità di controllo non siamo più un'autorità di protezione dei dati che come sapete insomma chi si occupa tempo cercava di accompagnare questo percorso quindi attenzione ai termini anglofoni volevo rispondere su questo interessantissimo spunto il cambio di paradigma che per esempio la mia amica Margot Kaminsky ha definito binary governance o co-governance cioè il fatto che o altri in maniera più forte è una privatizzazione dei diritti fondamentali cioè noi diamo alle imprese l'onere ma anche l'opportunità di fare un'autovalutazione secondo me anche proprio in ottica di efficienza perché le autorità diciamo garanti usiamo il termine italiano non avevano la capacità di poter entrare a fondo nei meccanismi di compliance e quindi si dice diciamo elabora il tuo meccanismo di compliance poi sta a te però dimostrare che sia diciamo che funzioni ci sarebbe una terza via che è la via che si è provato un po' col col proposto articolo 29a dell'AI Act ma si può fare meglio ed è la partecipazione dell'autorità pubblica all'interno delle valutazioni di impatto ovviamente costa tanto come costa tanto la valutazione di impatto l'articolo 29a dice solo che bisogna dare all'autorità pubblica immediatamente notifica del fatto e un sommario di quello che è avvenuto il DSA per l'impact assessment all'articolo 34 per esempio obbliga un audit che è fatto da privati ma è sempre qualcosa in più del semplice impact assessment che te lo fai te lo canti te lo suoni e forse ti arriva un controllo quindi un audit la partecipazione del pubblico e poi ancora di più parliamo di cambio di paradigma secondo me soprattutto quando mi sono occupato di soggetti vulnerabili il cambio di paradigma deve essere che le decisioni non devono essere fatte solo al consiglio di amministrazione eccetera e o da chi poi prende decisioni in ambito dati ma l'impact assessment deve essere partecipativo con i soggetti impattati dal trattamento e questo aiuta non perché io il mio foresight lo posso fare meglio se ho un'ampiezza di vedute e soggetti che si sono trovati in quella situazione anziché semplicemente le solite persone col solito background col solito con i soliti bias perché ce li abbiamo tutti però come facciamo a valutare i rischi se non abbiamo chi con i rischi poi li proverà sulla propria pelle quindi rappresentanti di soggetti vulnerabili rappresentanti di diversi tipi di clienti se si tratta di clienti o di soggetti quindi diciamo che forse un nuovo paradigma una terza via ci potrebbe stare non so quanto sarà nei fatti qualcosa c'è già col DSA speriamo anche con l'AI Act sono una battuta per rispondere comunque c'è qualcosa nel senso che ad esempio il nuovo codice in materia di telemarketing vede per la prima volta oltre tutti diciamo i partecipanti della filiera quindi chi commissiona agli outsourcer ai call center vede la partecipazione di organismi di tutela dei consumatori e quindi sia nella redazione del codice sia soprattutto in quella che sarà l'applicazione ci sarà come dire questa chiamiamo una sinergia comunque questo incontro di diversi tipi di valutazione che speriamo possa proprio andare verso questa linea a questo punto vi starete chiedendo dove è finita la batteria di pentole che dovevamo vendervi per il perché siamo arrivati in fondo senza la batteria di pentole allora non è da me lasciarvi delusi quindi la batteria di pentole c'è e ve la racconto scusate la faccia di nuovo ed è il gattino che vedete in basso a sinistra voi mi dite ma non c'è un gattino vergogna guardate le due F di PFF e dentro vedrete nel vuoto c'è il gattino con i due occhi lo vedete lo vedete il gattino perfetto non potevo non far vedere il gattino che cos'è è un come l'abbiamo definito in realtà è a metà perché è un tentativo di learning ed è un tentativo di think tank che prova a utilizzare proprio i futuri per comprendere i futuri della privacy privacy for future è un'iniziativa che è già partita è già ha già una serie di primi soci entrati fondatori primi casi d'uso ed è una sperimentazione continua per imparare a utilizzare i futuri nell'ambito della privacy trovate già online il sito web lo trovate nella descrizione di questo invito ci sono diverse tipologie per poter partecipare se queste cose di cui abbiamo parlato oggi potrebbero in qualche modo interessarvi forse un giretto in pff privacy for futures io fossi in voi lo farei e così ho venduto anche la batteria di penne siamo tutti contenti rileggo le qualifiche così non le sbaglio così che sbaglio più difficilmente allora grazie mille a giuseppe vaciago partner di 42 low firm che è uno degli organizzazioni insieme che è andata via la nostra la nostra socia è andata via salutiamo tutti eh sì salutiamo Anna Cataretta sì certo allora abbiamo Gabriele Rizzo chiaro perché ce l'ho dietro Gabriele Rizzo che è l'uomo del foresight ma tecnicamente consigliere internazionale foresight executive ok e così ci siamo Riccardo Acciai che non mi ricordo mai direttore di appartimento reti telematiche e marketing del garante perfetto vado in ordine dai non fatemi fare i ping pong avanti e indietro Adafiaschi responsabile privacy data protection di Ita Airways Giulia Labate segno privacy expert di Team System Guido Sandonà Ciso e DPO di Bulgari abbiamo professor Malgeri buonasera Gian Carlo De Malgeri co-director del Brussels privacy hub e professore Alaiden ed è rimasto qui ad ascoltarci fino alla fine quindi di nuovo un applauso anche a Regis Santelli e grazie mille a tutti alla prossima grazie mille a voi a casa e fuori c'è il rinfresco grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie.